Quanto è avvenuto il rapporto deficit-PIL portato al 2,4%? Vediamo che significa. 2,4% detto così può significare che spostiamo in avanti il peso del debito. Se invece significa per la prima volta nella storia degli ultimi anni mettere al centro le persone i diritti e non i numeri e soprattutto non facendo come facevano altri che facevano e davano dei soldi e poi toglievano un'altra parte perché finora ci hanno solo tolto e penso al bando delle periferie, un miliardo e mezzo di euro. Adesso vediamo se in questa manovra ci sta un sostegno ai territori, ai diritti, ai servizi, alla messa in sicurezza complessiva del nostro paese. Non basta dare un po' di elemosina perché queste sono politiche che abbiamo già visto, sono politiche che fanno balenare la possibilità della felicità a persone povere ma è solo un assistenzialismo e poi invece si lancia in avanti e si sposta in avanti il problema. Io credo che se si vuole rilanciare il paese bisogna fare manovre coraggiose che tolgano vincoli normativi e vincoli finanziari. Lo sviluppo riparte dai territori. Finora non si è visto nulla da questo punto di vista. Quindi se ci saranno delle novità positive sarò il primo a darne atto. Per ora, lo devo dire con molta sincerità, non vedo nessun motivo per festeggiare il nostro paese. Un paese che cade a pezzi da un punto di vista strutturale, non è messo in sicurezza, i comuni stanno andando, tanti comuni rischiano il dissesto, non si hanno le risorse per garantire i servizi, non vedo veramente che cosa ci sta da festeggiare nel nostro paese.